Per i servizi di emergenza dell'AS di Brindisi è stata routine come sempre, indipendentemente dalla provenienza, dalle ragioni, l'umanità, tanto più quando è un'umanità in viaggio, ha necessità di accoglienza e in qualche caso anche necessità sanitarie. In questa situazione non ci sono state particolari criticità, una quindicina i pazienti, i cittadini, i migranti visitati, una donna incinta in tutte le condizioni, sia lei che il bambino, alcuni casi di ustioni e di scappia. Per il resto tutto sotto controllo, come sempre e come deve essere.